Ciao a tutti che ci sono attivati in questo nuovissimo episodio di Minecraft ETA Allora, come potrete vedere tra pochi secondi, ho installato l'Optifine Ehm, sì, questo è quello di cui vi parlavo nello scorso episodio E sì, molto bello, penso che la sfida di oggi sarà fare un episodio così Ecco qua il mio Diamond Pickaxe E la mia spadina E il mio arco Ehm La Sandstone sembra non avere problemi No, solo alcuni pezzi di Sandstone Che bello, però almeno ho il mantellino Il mantellino ce l'ho, dai La roba buona l'hanno fatta Mamma mia, adesso è seria Che belle molche rilasciano il giorno d'oggi Ok Svolazza Ecco, oltre al mantellino la cosa davvero figa è lo zoom Chi non lo sapesse tramite control, grazie alla moda Optifine, si può zoomare E io qua vedo una cosa fighissima La mia casettina La mia casettina, la torre del nether Se la cosa figa è metterci anche uno spawner di... no quel cazzo Quel cazzo No, magari metterci delle netherworld Delle netherworld sarebbe figo aggiungerci la E alla fine penso che la... comunque la glowstone la sotto sia una buona aggiunta E' stato un buon suggerimento da parte vostra Io volevo farci il secondo livello come quello dell'overworld ma così... così è buono dai L'unica cosa davvero è magari se vediamo da un punto di vista sopraelevato aggiungerci della netherworld un qualcosa insomma Perchè li abbiamo gli alberi, li abbiamo i fiori, l'erba Li non abbiamo niente praticamente se non la lava Ehm... quindi penso che potremmo farlo anche adesso Non so quanta solo se ne ho Ma potremmo scoprirlo Ah beh direi che ne abbiamo abbastanza Uno stack è più che sufficiente In questo caso andiamo a prendere la netherworld Anche se a dire il vero ne abbiamo solo... Vabbè andiamo a farmarla che è da tanto che non farmiamo la netherworld In quel posto specifico Ecco qui... ahia la porta Il famoso ponticello Con la famosa casa del nether In cui ora io rimetterò i fiorellini del nether Che bellini dei fiorellini del nether Che bellini Adesso il serio è la porta che continua a sbattere perchè tira un po' di venticello Ok 36 Mh... magari un po' di più Vabbè le prendiamo da... della stanza della... l'ex stanza dell'alchimia e... Futura cucina Barra sala da pranzo E comunque questa si è rivelata una grandissima figata Grazie ad Andrea ancora Andrea ecco... no ok era pessima quella battuta Ok Prendiamo un altro po' di netherworld dai Ehm... netherworld... qui Dai questi bastano dai si si bastano Ok mentre mettiamo questi bei fiorellini qui In questa cosa vorrevo parlarvi Di una cosa che mi sta torturando Stupida porta la smetti? Da un po' di giorni Questa cosa che mi sta torturando E' la qualita' dei miei video Allora io registro i miei video con Dxtory OBS l'ho abbandonato perchè... Ehm... faceva dei laggini E quindi ho preferito abbandonarlo Ehm... anche questo Ehm... e renderizzo con Sony Vegas Ehm... con impostazioni tipo a 6 Mbps Qualità 100% Ehm... video rendering best e tutto Però effettivamente come avete fatto notare Quando i miei video li si guarda in 360 E' come se li si guardasse in... in 240 se non in 144p Che poi cos'è sta stronzata che hanno aggiunto il 144p? E' solo per i mobile Che cacchio me lo metti anche sul computer Insomma mica c'ho una connessione dell'anticristo Inoltre... eh... ogni video mi pesa più di un giga Quindi la qualita' c'è perchè io quando lo guardo Ehm... sul mio computer Cioè il file che ho sul mio computer Ehm... la qualita' c'è ed è anche alta Molto alta rispetto ai miei vecchi video Ehm... ora grazie a Telecom che mi ha abilitato La connessione 1Mbps in upload Riesco a fare questi video di qualita' alta Perchè è qualita' alta effettivamente Il bitrate va oltre i 6000 ehm... kbps E quindi... è tanto Però nonostante ciò Su Youtube si vede di mezza Solo in 360 poi Perchè se metto in 480 Già si vede molto meglio Però... non lo so Con il problema con il rodellatore comunque Quindi se qualcuno di voi... Io penso sia colpa di Youtube Penso sia colpa di Youtube perchè Non codifica bene il video Quindi magari devo cambiare il formato Ehm... Penso che l'MP4 magari sia una buona scelta Anche che se con Sony Vegas Davvero è un po' una picca L'MP4 con Sony Vegas Perchè... Cioè metti un bitrate alto E ha la stessa qualita' di un file Ok così è molto più figo E ha la stessa qualita' di un file VMV con il bitrate basso Quindi davvero un po' strano L'MP4 su... Su Sony Vegas Quindi se qualcuno di voi se ne intende un po' Mi suggerisco un formato Perchè il bitrate Quello me lo posso permettere insomma Ci metto 3 orette a caricare un video di 20-30 minuti Ma per la qualita' Ehm... Soprattutto video e audio Questo ed altro Penso di aver bisogno di più handstone Qualcosa me lo suggerisce ecco E devo anche usare la netherworld Lo cacchio era di sopra O fa più Ehm... Si E' allora di un viaggetto nel... L'end... Prima di andare però Giusto per sicurezza Mi prendo un piccolo secchiello d'acqua Non so perchè Ma penso che mi sarà utile In casi di emergenza Quindi fa più Me lo porto appresso Io odio i pigman zombie Io li odio tanto tanto Io odio i pigman zombie così tanto Che me ne andrò Nell'end Tunze 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 Eccola qui siamo qui nel lab dell'end Ehm... In particolare voglio anche prendere dell'ossiliana Perchè diciamo che non siamo messi benissimo E ce ne serve più o meno uno stack O poco più Forse una cosa ideale sarebbe stata Portarsi dietro Una piccolissima Zucchina Chi non sapesse le zucche messe in testa Ci aiutano a proteggersi da questi esseri immondi Chiamati Enderman Caffoni Ora Mentre raccogliamo un po' Mentre grindiamo Endstone Vi devo parlare un attimo di una cosetta Ehm... Allora Facendo live Ehm... Si entra in contatto con I propri iscritti E così Ehm... Chiedetelo a chiunque A qualunque streamer Ehm... E vi dirà che Il live è il modo migliore per interfacciarsi con i propri iscritti Ehm... Per chi non lo sapesse Basta scrivermi sulla pagina Facebook Ogni volta che vado in live Io lascio un piccolo feed Le macchine che passano sotto casa Ehm... Praticamente Tutti sanno che io sono contro l'utilizzo di Minecraft SP E molti mi dicono Io lo comprerei anche Il problema è che i miei genitori Non mi lasciano fare una PayPal E robe varie Io Mi sono informato dal nostro sponsor Che è Kinguin Ehm... Venditore di giochi Ehm... Di chiavi di giochi No... 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 Mi sono informato da Kinguin Mentre amato questo Enderman Ehm... Mi hanno detto che loro vendono Minecraft sul loro... Sul loro sito Però costa tipo 5€ in più Costa tipo... 26€ 25€ Ehm... Io ho chiesto perchè Ehm... Lui mi ha detto giustamente Perchè noi offriamo tutti i tipi Di pagamento Allora... Quando sul sito di Minecraft voi volete comprarlo Potete usare per forza Ehm... Il... PayPal Una carta di credito Invece quando Ehm... Lo acquisti su Kinguin Puoi usare anche la PaySafeCard Cos'è la PaySafeCard? E' il modo in cui tutti voi potreste avere Minecraft Premium Tutti voi che dite che i vostri genitori Ehm... Non vi lasciano fare la PayPal Oppure non si fedono a mettere i dati della carta di credito Va bene... Va bene... Anche i miei sono molto scettici Sui acquisti online Anche se ormai non ho fatto talmente tanti Che gli sarà passato lo scetticismo Ehm... Ehm... La cosa che vi suggerisco è Usare PaySafeCard Pagate 5€ in più Però è una spesa che... Ehm... Comunque... Uno affronta se non può permettersi altri tipi di pagamenti Tipo PayPal o carta di credito Ehm... Voi andate in un tabacchino qualsiasi E chiedete la PaySafeCard Da 26-27€ Praticamente cos'è la PaySafeCard? E' una carta... E' tipo... Ehm... Una ricarica E' un codice che tu usi in internet E... A uso singolo Della serie Tu hai questa carta E' un codice Tu hai un codice Paghi dal... Dal tabacchino questo codice E lui ti... Ehm... Te lo da Questo codice Ehm... Tu lo inserisci All'interno del pagamento di Kinguin E lui ti scala Il prezzo che fai Tu puoi fare anche una PaySafeCard Da 50€ Però ne spendi 25 E... E ne hai altri 25 E quei 25 li puoi usare in altro modo Ora devo abbattare... Abbatterò quella che è piccolina Capite? In questo modo potrete Avere Minecraft Premium Senza utilizzare carte di credito E altre cose Di cui i vostri genitori magari Non si fidano Il link per Kinguin Lo trovate in descrizione Come sempre E' su realpower.com Slash games E' il mio sponsor E quindi niente E' così Ora batterò questa torre di Ossidiana Ci verranno secoli probabilmente Ma vabbè Ok mi sono decisamente rotto Ne ho preso uno stack e 34 pezzi Sono circa... Un... Circa tre livelli che ho ammazzato di botte Ce l'ho una... No... Non ce l'ho una pala Ti rendi... Oh cacchio Perchè mi rubi la terra? Ufff... 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 No devo resistere alla tentazione Non posso ammazzarlo Che dopo... Inconsciamente attiro altra gente Poi la gente mi picchia O... L'ammazza Enderman versione 1.0 Mi ricordi Questa serie lo sapete che ha quasi più di 500 episodi Ha quasi più... No... 400 forse Ok piccolo bug della porta Io so che è aperta Però... Vabbè... GG Ok... Andiamo a lavorare in questa cosa Speriamo che la Endstone mi basti Speriamo davvero che mi basti Perché non voglio fare un altro giro là nel land Ehm... Su che alberi la farò? Allora la farò sull'albero che regge anche la... Ehm... L'isola dell'Overworld E quelli subito accanto Cioè quei due Quello là dietro penso anzi che lo abbatterò O... Forse vediamo Ma lì solo come scenografia lo lasciamo là Quindi andrà su questo albero Questo albero E questo albero Oh merda Forse direttamente andrà anche su quest'albero No lo farò più alto Quindi mi sarebbe impossibile Allora direi che Dovrebbe essere un certo livello tipo Lì Proprio lì Allarme di una macchina quindi GG Vediamo che tipo qui Va bene Magari uno così Ecco ora la cosa è salire Riportare i blocchi Arrivare ad un'altezza decente Che potrebbe essere Non questa bensì questa No Questa Perchè sennò questo è troppo basso E anche questo sarebbe troppo basso Facciamo una roba così E poi facciamo undici blocchi in ogni direzione Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici Ossidiana alla mano Uno, due Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre E farò così anche con il resto Ok ho terminato il cerchio Almeno quello che riguarda la parte esterna Ora no, non lo so se proprio ci riesco con questi blocchi a terminare tutto Però ci proverò E nel caso farò un altro giretto nel nether Magari non proprio oggi ma nel prossimo episodio Ehm Come monumento di questa isola Naturalmente ci metteremo un pilasto di ossidiana Per il quale mi sa dovrò andare a prenderne altra Non so se proprio nel land magari userò il vecchio trucchetto della lava e della redstone Perchè ancora non lo conoscesse Magari ne approfitto per mostrarvelo Ecco ho finito uno stacco e fare giusto un quarto Quindi sono un po' preoccupato di quanto riuscirò a fare Ma hey, this is the game So what you have to say Comunque si prospetta abbastanza figa anche quest'isola Abbiamo delle foglie quindi non lo Le sfamiamo anche dei blocchi cosa buona e giusta Sempre buona e giusta Il problema è che Ne ho davvero poca di handstone ora che ci penso Avrei dovuto tipo battere mezza collina Fa 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 Forever del mondo Ok Va bene almeno abbiamo fatto due quarti Due quarti e qualcosa Di questa isola L'altro giorno ho visto un film Il film si chiamava Il miglio verde Non l'avevo mai visto prima ma so che tipo un classico E so anche che l'attore quello di colore che interpretava Competrava John Coxie John Soxy Non me lo ricordo quello lì Quello nero di colore quello il gigante Lo stregone possiamo dire E anche morto se non sbaglio ma va bene Cioè non va bene il senso che se ne fregate è morto Va bene il senso ok basta Devo smettere di parlare Mettiamo un po' di torce giusto perchè Vieni a vedere come Luca da lontano Spero che non ci siano troppi mobba Spero che ci sono un po' di torce in questa zona Si ci sta poi mettendo tutte le liane si si ci sta ci sta Mi piace Mi piace Oh bella Nooo Nooo Non voglio che si ripeta la storia Oh my good A posto? Bene allora la mia teoria dell'arco era vera Quando utilizzi l'arco Non ti spawnano gli zombie Che cosa buona e estremamente giusta Credetemi Credetemi Oh no Uno è spawnato Boo Boo Nice Eh no Spawnano Mannaggia loro Mari con meno probabilità forse Gimmi Give me that No col cacchio vaffan bene Morite tutti Ghani Oh no quello è uno scheletro Beh io posso scappare You can't You can't Bene Let's gooo to sleep I wanna sleep and fop and let it all out A proposito di cose che non mostro da secoli anni millenni forever del mondo 1 1 1 1 punto esclamativo Voglio provare a fare un altro piccone che non sia silk touch magari magari un efficiency 4 un breaking 3 normale Senza il silk touch 1 1 e tunze tunze daie daie Quindi ora vi mostrerò una cosa che non mostro da tanto tempo Cioè in realtà non l'ho mostrata forse negli ultimi 20 episodi Però 20 episodi sono tanti Quasi un mese Dov'è? Di qua Mi sto scordato per il fine dov'era Qua c'era qualcosa Monster stone Fuck you io me la prendo Call Fuck you io me lo prendo Eh sì questo è il mio spawner di zumbi E zumbi e zumbi e daie daie E quindi Ora vi farò vedere il mio sistema di killing super automatico con un punto esclamativo Che consente in un bottone Che attiva un Io lo chiamo distruttore di delay Ehm come cacca si chiama? Il circuito monostabile Perché mentre lui attiva il pistone Quindi qui manda un tick di energia Che poi viene tramontato in trem Ma vabbè Ehm Qua c'è un piccolo clock Un mini clock Cioè attivo la lava E dopo pochi tick lo disattivo E io stando qui e aprendo questa porta Faccio arrivare gente su gente Perché? Ti senti giù di morale? Ah! L'hai capita? E poi qui ho una piccola Enchanting table Con una piccola Farm di patate Che effettivamente patatero Si patatero è un nuovo verbo Probabilmente l'ha inventato Luke Eh si Luke quit Però vabbè Per ovvi motivi non per altro So we gonna do something like this Ok Ah e qui giusto per design ho aggiunto 3 milioni di fornaci Non che mi servano Effettivamente a qualcosa E qui giusto un po' di Storage e tutte le merdate Che mi droppano quelle med Anzi che mi droppavano quelle med Anzi no mi droppano ancora Perché la lava non è Ehm Non è costante Premendo F3 Posso vedere quante gente c'è Ehm Sulla coordinata E Vedete Nella direzione in cui sto appuntando Ci sono circa 10 mob E' sempre approssimato Perché ci sono sempre entità Al di fuori Anche Anche questa è un'entità Per dire Lo vedi? E' un'entità Ora non c'è più Per ovvi motivi non uso più questa farm Ehm L'ovvio motivo è che è lenta Ci metto molto meno tempo Utilizzare la farm di enderman Che ho Nell'end Giustamente Ehm Niente qua sono Sarò una ventina alla fine Trentina Ventina in realtà Sta arrivando gente Uno Basta Perché se basta Faccio vedere come funziona Ok faccio vedere come funziona La cosa è questa Mi indebolisco con la lava Come vedete qua dentro Ora c'è un secchiello di lava pieno Uffa Ho partito un lava di friccio E' GG Le poveri indeboliti Essendo zombie posso fargli danno Con una pozione di cura E sulla cosa succede più o meno così Ecco In questo caso 30 di oro mi hanno dato solo 9 livelli Quindi capite che non è molto efficiente come farm Dunque per questo episodio è tutto Da me e dal mantellino è tutto Ciao Turuturu tutti Ciao Turuturu tutti